Ciao ragazzi, state bene? Tutto bene? Oggi parliamo della categoricità dell'imperativo morale di Kant. Siamo all'interno dello studio della critica della ragion pratica e vediamo come Kant individui alcune regole generali per riuscire ad avere dei principi pratici che guidano il comportamento umano. Ecco, è proprio questa la volontà, cioè la ragion pratica. È l'insieme delle regole che guidano bene il nostro comportamento. Kant suddivide queste regole in massime e imperativi. Qual è la differenza? Le massime hanno un valore soggettivo. Ad esempio, io posso dire, io amo fare ginnastica al mattino. Cioè, per me, per la mia persona, è positivo applicare questa regola soggettiva. È un principio soggettivo, lo definisce così Kant, che vale per la mia persona. Invece, gli imperativi hanno un valore oggettivo, quindi devono essere validi per chiunque. C'è quindi una prescrizione, una regola, che deve acquisire un valore universale. Gli imperativi, a loro volta, si dividono poi in ipotetici e categorici. Se vogliamo fare un esempio di imperativo in generale, con valore oggettivo, possiamo dire, per esempio, se vuoi vivere, devi nutrirti. Quindi questo è un imperativo importante da seguire a livello di ragion pratica. Se invece devo andare a cercare un imperativo ipotetico, devo andare a far diventare più evidente questa conseguenza di strutturazione. Fa questo esempio Kant, se vuoi conseguire dei risultati, devi impegnarti in modo costante. Queste regole sono imperativi che vanno a specificare delle regole dell'abilità, cioè delle norme tecniche che ci insegnano a perseguire uno scopo, ad arrivare a un obiettivo finale. Valgono in tutti questi casi i consigli per la salute o per raggiungere la felicità, quelle che vengono considerate i vari manuali, con i consigli da poter seguire. Invece l'imperativo categorico va ad ordinare un regola che vale per tutte le persone in tutte le circostanze. Quindi l'imperativo categorico è assoluto e deve quindi essere una legge che agisce sempre in modo universale, deve essere un fine e non un mezzo, cioè devo andare sempre a pensare che la cosa più importante è la dignità della persona umana e non a usare le persone per raggiungere i miei obiettivi. E l'altro elemento importante è l'elemento della scelta, della volontà. Ecco quindi che l'imperativo categorico ha le caratteristiche della legge, quindi è come un comando che vale in modo perentorio per tutte le persone e per tutte le circostanze. e ha una formula base che nella critica della ragion pratica Kant enuncia così Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere nello stesso tempo come principio di una legislazione universale. Ecco, cosa vuol dire questa frase in sintesi? Comportati come se il tuo comportamento dovesse diventare una legge per tutti. Quindi devi sempre pensare, quando ti comporti in un certo modo, che vorresti che tutti si comportassero in quello stesso modo. Quindi deve essere un comportamento buono. Un comportamento è morale, quindi solo se, diciamo così, supera il test di generalizzabilità, cioè solo se può essere effettivamente buono per tutti, allora è morale. Se invece facciamo l'esempio opposto, capiamo ancora meglio quello che dice Kant, cioè quando un comportamento è immorale, cioè non va bene, un comportamento è immorale quando, se io lo penso distribuito universalmente nel mondo, allora mi rendo conto che la cosa non funziona. Fa un esempio Kant importante parlando del suicidio. Vi leggo il passo della critica della ragion pratica. Un uomo indotto alla disperazione da una serie di mali prova il disgusto per la vita, pur conservando il dominio della propria ragione, quanto occorre per chiedersi se sia in contrasto col dovere verso se stesso togliersi la vita. Cerca allora di stabilire se la massima della sua azione possa diventare una legge universale della natura. Ma la sua massima è, per amore di me stesso, assumo a principio di abbreviarmi la vita se la sua ulteriore durata mi fa prevedere più mali che piaceri. Tutto sta nel sapere se questo principio dell'amor di sé possa diventare legge universale della natura. Ma è facile vedere che una natura la cui legge consiste nel distruggere la vita, proprio in virtù di quel sentimento che è destinato a promuoverla, cadrebbe in contraddizione con sé stessa. Quindi non sussisterebbe come natura. È quindi impossibile che nella massima possa valere come legge universale della natura, perciò risulta contraria al principio supremo di ogni dovere. Cosa vuol dire in questo passo Kant? Kant fa l'esempio di un uomo disperato che per una serie di mali esistenziali arriva a essere disgustato dalla vita e che inizia a meditare di suicidarsi, di togliersi la vita, ma poi ragionando, dice ancora una ragione che gli consente di capire che cosa è meglio per se stesso e per il mondo, arriva a fare questo ragionamento. Se io, per amore di me stesso, penso di togliermi la vita, perché la vita è troppo dolorosa e quindi ho più sofferenza che cose positive, che felicità, in verità io, in questo modo, sto agendo in modo contraddittorio alla vita stessa, in modo contrario alla vita stessa. Cioè il principio di non contraddizione non funziona più, perché per l'amore di me stesso io vado a togliermi la vita, ma in verità è proprio l'amore di me stesso che dovrebbe invece nella natura portare avanti la vita stessa. Quindi la natura non vuole questo da me, perché se tutti incominciassero a togliersi la vita, a suicidarsi, perché vogliono avere una vita più felice, allora la natura stessa, la vita stessa, non esisterebbe più. Quindi è impossibile che la regola, la pratica del suicidio diventi universale per Kant, perché è un andare in contraddizione con se stessa. Quindi è una vita che contraddice la vita. E questa mancanza di logica dimostra per Kant come sia importante continuare a vivere anche nella sofferenza. Proseguiamo nella riflessione andando a vedere come la seconda formula dell'imperativo categorico afferma un altro importante passaggio. Scrive Kant Agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona, sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna rispettare la dignità umana che è in te, prima di tutto, con l'amore per se stessi, e anche negli altri. Quindi bisogna evitare di ridurre il prossimo, ma di ridurre anche se stessi, a un semplice strumento di egoismo o a un semplice elemento di passioni individuali che vanno a fuorviare la propria strada, la propria esistenza. È importante quindi per Kant andare a definire la morale come un regno dei fini. Quindi è importante il regno della dignità di tutti gli uomini, gli altri e se stessi. La terza formula dell'imperativo categorico prescrive di agire in modo tale che la volontà, in base alla massima, possa considerare contemporaneamente se stessa come universalmente legislatrice. Cosa vuol dire? Questa formula ripete in parte la prima formula, ma c'è una differenza perché si va a puntualizzare l'autonomia della volontà, cioè mette in evidenza come il comando morale non debba essere un qualcosa di esterno, un qualcun altro che mi viene a dire cosa devo e non devo fare, perché altrimenti così è una morale schiavizzante in cui si diventa schiavi di qualcun altro che mi dà degli ordini. Non deve essere così. Quindi ogni volta ci deve essere una volontà razionale che va in modo spontaneo a decidere dov'è il limite. Che cosa è bene? Che cosa è male? Ragiono ogni volta in questo regno dei fini, della dignità e della libertà per riuscire a capire come ognuno sia suddito e legislatore nello stesso tempo di se stesso. In altre parole, scrive Kant, La volontà non è semplicemente sottoposta alla legge, ma lo è in modo da dover essere considerata autolegislatrice e solo a questo patto sottostà alla legge. Ecco, è importantissimo, quindi questo terzo elemento della libertà di scelta. Ma ognuno di noi deve ragionare di volta in volta per tentare di capire dov'è il limite e il confine tra ciò che è male e ciò che è bene. Va bene, ragazzi. La vostra professoressa Florio anche oggi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima lezione. Grazie. Ciao.